Cari amici telespettatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento della rubrica televisiva al libro aperto. Come ben sapete il nostro scopo è quello di presentare libri che possono in qualche modo contribuire ad arricchire la nostra conoscenza. Sapete che è mia abitudine alternare delle presentazioni che faccio sia da solo per questioni diciamo relativi all'impossibilità degli autori di raggiungerci, talvolta invece sono davvero felice di poter ospitare gli autori qui in studio e oggi devo dire che sono particolarmente contento di avere al mio fianco, lo posso definire un amico, Bruno Iaccarino. Bruno Iaccarino la nostra amicizia risale a tanti anni fa quando io ero un liceale perché Bruno è, citiamo del tu, non abbiamo dei formalismi anche se siamo in tv perché con lui ho un rapporto di antica amicizia. Davvero ero un liceale quando ho cominciato a conoscere Bruno che era un collaboratore scolastico presso il liceo scientifico Elio Vittorini di Napoli dove mi sono diplomato e ho scoperto che Bruno aveva la passione per la scrittura, una passione in comune anche con quella che poi ho coltivato anche io ed è stato autore diciamo anche molto produttivo perché ha pubblicato un romanzo che è stato poi ripubblicato che oggi presentiamo che si intitola Oviecch Antico, edito da Graus Editore che è un editore napoletano molto attivo alla ricerca anche di queste storie che riguardano e che sono ambientate nella città di Napoli. Devo dire che si tratta di una storia commovente, suggestiva che è ambientata verso la fine degli anni 50 a Napoli e voglio subito anticipare ai nostri telespettatori che si tratta di un romanzo autobiografico. Adesso fra poco Bruno ci spiegherà perché. Innanzitutto io ho una domanda che faccio sempre e secondo me caro Bruno tu ci puoi spiegare poi e cominciare a parlare del libro. Perché questo titolo Oviecch Antico? Allora Oviecch Antico praticamente trae spunto dalla saggezza popolare di questo personaggio che si differenziava da tutti gli altri vecchi perché lui praticamente stava in un quartiere storico di Napoli, San Lorenzo e tutta la gente andava da lui per chiedere consigli e quindi questo appellativo è proprio per la sua saggezza. Siamo nel 1958 esattamente, io praticamente all'epoca perché sono tutte cose veri, il libro è fedelmente autobiografico, i protagonisti siamo io e la mia famiglia, la mia numerosa famiglia di quei tempi e praticamente come diceva autobiografico e questo vecchio praticamente dava consigli a tutto il quartiere che si rivolgeva a lui però anche lui aveva un grosso problema. Io e il mio amico Peppino corriamo in suo aiuto cercando di disforcere questo diciamo compito e attraverso questa storia che dura un anno intero tutto il 1958 io parlo di tutte le cose della Napoli di una volta, cioè tutte le tradizioni, i valori, i valori spirituali, i valori morali anche perché questo vecchio antico come si suol dire praticamente risaltava sempre alla figura di Gesù Cristo, lui diceva sempre quando hai bisogno di qualcosa chiama Gesù che lui ti risponderà sempre e ti aiuterà. Infatti io mi sono trovato in tante difficoltà e ho seguito i suoi consigli e sono stato aiutato. Che altro potevo dire? Praticamente in tutto questo anno io parlo della Pieticrotta, parlo delle feste pasquali, parlo di Natale, parlo di tutte le tradizioni di Napoli. Purtroppo siamo in una città che ormai purtroppo dobbiamo dire sta scomparendo con tutte le sue cose belle, i suoi valori, le sue tradizioni e io ho fatto questo libro, perché io sono un poeta innanzitutto, ho fatto tante poesie, però il mio sogno era questo libro autobiografico, è un sogno che io ho realizzato a fatica perché io non sono né lavorato né diplomato, cioè appena la terza media, lo voglio dire, non so usare il computer, quindi l'ho scritto a mano, proprio come si faceva una volta, ho fatto fatica a scriverlo, però ci ho messo tanto cuore veramente, tantissimo cuore. E praticamente questo libro io l'ho fatto maggiormente per i giovani, perché oggi i giovani purtroppo non sanno come si viveva una volta e come si potrebbe vivere ancora, viste le difficoltà di questi ultimi tempi, quindi diciamo è anche una preparazione alle difficoltà attuali. Bruno, devo dirti la verità, prima di tutto mi ha fatto piacere e sono contento di questo tuo richiamo al ruolo che anche Gesù ha avuto nella tua vita, per come ti ha aiutato, per come ti ha assistito e poi devo dire che è un atto di coraggio fenomenale, insomma, pensare come ha detto Bruno di aver scritto questo libro come si faceva una volta, pensate, e si tratta di un romanzo anche corposo, importante, con uno stile narrativo incalzante, e pensare di scriverlo a mano come si faceva una volta, è una cosa che mi ha incuriosito sempre di più della produzione di Bruno, ma quando l'ho cominciato a conoscere lui scriveva soprattutto poesie, poesie che nel nostro liceo giravano, perché poi Bruno, sapete, è un carattere silenzioso, ma si nascondeva questa voglia di comunicare, perciò io ti voglio fare questa domanda Bruno, usciamo un attimo dalla storia di questo romanzo autobiografico, come ti è nata questa passione per la scrittura? Perché l'esigenza di mettere su carta? Allora, io praticamente da già da bambino ho sempre scritto, io facevo canzoni, una volta testi di canzoni e anche musiche, infatti io sono scritto all'Asia dal 1965, non avevo ancora 18 anni, infatti dovette firmare mio padre per me, e quindi io sono un autore, ho avuto un centinaio di canzoni incise da cantanti napoletani, poi dopo mi sono buttato nella poesia, diciamo con gioia e anche con molte soddisfazioni, specialmente al liceo, facendo poesie per i professori che andavano in pensione, e poi dal 1988 nel liceo scientifico Vittorini che tu hai menzionato, su una lastra di metallo c'è una poesia contro la droga, intitolata al decimo liceo, è un ammonimento contro la droga che i ragazzi hanno ricevuto molto bene, infatti sta ancora lì dopo tanti anni e i ragazzi non l'hanno nemmeno scalfita minimamente, niente, quindi per me è una grossa soddisfazione, però a parte la poesia, io avevo questo desiderio da tanti anni, però sapevo le difficoltà che avrei incontrato a scrivere, però pian piano mi sono messo e ci ho messo tre anni a scrivere questo libro, piano piano ho curato tutti i particolari, ho fatto delle ricerche e ho scritto questo romanzo che ci tenevo molto, autobiografico, praticamente io voglio dire due paroline sui tempi, erano tempi nel 1958 in cui nelle case non ci stavano le comodità di oggi, praticamente non c'erano nemmeno in parecchie case i servizi igienici, non c'erano coperte per riscaldarsi d'inferno, non c'erano termosifoni, stufe, si cucinava col carbone, quindi praticamente era una povertà estrema quella che io ho vissuto, però mi ha temperato lo spirito, poi la fortuna di conoscere questo personaggio praticamente mi ha completato sia spiritualmente che come uomo. Devo dire che è un romanzo che consiglio anche a quelli che in qualche modo hanno nostalgia dei tempi che furono, cosa voglio dire? Bruno ci ha appena spiegato, ci ha appena dato un'ambientazione di quei tempi e sapete da un punto di vista storico 50 anni non sono tanti in confronto diciamo ai secoli, però sapete negli ultimi 50-60 anni sono cambiate così tante cose che è come se fosse passato più di qualche secolo. La vita nel 1958 era completamente diversa anche nella nostra Napoli e forse devo dire che se siamo migliorati da un punto di vista della tecnologia, di alcune comodità, delle tv che abbiamo tutti a casa, degli elettrodomestici e così via, forse Bruno leggendo anche il tuo libro si è perso un po' il senso dell'onore della dignità, del rispetto che a quei tempi c'era. Ecco io ti devo dire la vita, lo dico da giovane cosa mi colpisce diciamo di questa storia? Il titolo, il protagonista diciamo, il fatto che un giovane si consiglia con una persona più adulta che ha esperienza e Bruno che è uno che ha avuto a che fare con i giovani, forse sa bene che questo è quello che manca ai miei coetanei, diciamo l'educazione, il rispetto ma anche l'intelligenza di sapere ascoltare i consigli che provengono da quelli che nella vita hanno avuto più esperienza, hanno avuto più anni da vivere e che sanno come affrontare determinate situazioni. A questo proposito io ti faccio un'altra domanda, relativa anche un po' al tuo lavoro. Tu hai visto diciamo i giovani nell'arco di decenni, che messaggio di speranza ti senti? Hai rivolto a loro, ai giovani questo libro? Io sono testimone che hai scritto tante poesie che oggi sono dei monumenti diciamo in un liceo importante come il Vittorini di Napoli e che hanno avuto anche un'utilità sociale perché fanno riflettere. In quest'ottica Bruno, cosa ti senti di dire giovani? Un messaggio di speranza e da una persona come te che ha vissuto e che ha esperienza? Io mi sento di dire solo di combattere per cambiare un po', non dico il mondo perché, però possiamo dire anche il mondo perché i giovani stanno dappertutto. Che oggi purtroppo c'è un vuoto incredibile, cioè non c'è futuro. Cioè la più triste realtà è questa, i giovani studiano, però non hanno un futuro come magari c'era una volta. Io studio, poi divento questo, poi faccio quello, oggi non c'è più niente purtroppo. Oggi si studia, però dopo c'è un vuoto, parecchi sono costretti ad andare fuori, all'estero, quindi se c'è ancora tempo, perché già in Nord Italia non c'è più spazio, giusto? Quindi però io ho notato una cosa a nessuno di oggi, rispetto magari a molti anni fa, sono molto più amici fra di loro, anche ragazzi e ragazze, cioè hanno sorvolato alcuni tabù, quindi sono un po' più fratelli e sorelli, io vedo che giocano insieme, maschi e femmine, senza problemi come c'era una volta, diciamo. Sì, una volta c'era questo tabù di non stare insieme, di stare separati, invece adesso li vedo proprio, si abbracciano, si baciano, una facilità senza malizia, devo dire. Quindi questa è forse l'unica cosa bella che vedono i giovani di oggi. Poi purtroppo anche loro sono cbandati e come hai detto tu poco fa non ascoltano le persone che hanno esperienza, anzi purtroppo oggi li deridono addirittura, invece una volta noi li rispettavamo molto. Io parlo delle due vecchie e antiche, questo Saperio e Savastano, però in quei tempi c'erano tanti di Saperio e Savastano, tanti vecchi. Io ho parlato di questo perché ho conosciuto questo, però ce ne erano tanti che davano consigli e la gente li ascoltava. Devo dire che di questo racconto, che poi vi invito a leggere, ecco voi vedete a conoscenza di tanti particolari della vita di allora e anche della storia personale dell'autore, però devo dire che quello che mi ha colpito Bruno è il costante riferimento alla famiglia, che intesa non solo come la mamma, il papà e magari i figli o la moglie, ma anche gli zii, diciamo, ecco questo senso della famiglia allargata, di un tempo che secondo me è una cosa fenomenale, sensazionale, che oggi un po' si è perso perché, diciamo, la società porta i giovani a vivere, ecco, chiusi in una stanza e cosa ti senti di dire riguardo a questo, diciamo, tema della famiglia? Un po' se potessi invitare i giovani a godersi, i nonni, gli zii. Purtroppo i giovani oggi sono distratti da tante cose, non so, discoteca, studi, e si tralascia un po' il valore della famiglia. Io voglio fare un accenno sulla mia famiglia. Io all'epoca ero uno praticamente di sei figli, i miei genitori non avevano un posto, quindi stentavano per tirarci avanti. Eravamo sei di noi che poi sarebbe nato il settimo, quindi la massima povertà. E di quei tempi c'erano tante di queste famiglie povere, tantissime. E che cosa voglio dire? Io praticamente ho ricevuto il messaggio di Gesù Cristo, cercare di andare avanti sempre, come faceva mio padre e mia madre, con tutte le difficoltà. Adesso, negli ultimi tempi, ho cercato di, non so, di ricordare ancora gli insegnamenti della vecchia e antica. Praticamente adesso attualmente c'è una famiglia felice, ho cinque figli, sei nipote e uno sta per arrivare, quindi io ho fatto il mio dovere verso Cristo. Ho procreato al massimo. Devo dire, Bruno, che si traspare anche la serenità, diciamo, in quello che dici, un po' nei tuoi occhi, nella tua vita. E questo è importante, è importante per chi ci segue, perché la cosa che dobbiamo capire tutti è che ci sono valori che vanno al di là delle cose materiali, dell'aspetto, diciamo, prettamente consumistico, del prendi, mordi e fuggi. E qui abbiamo l'opportunità di riflettere su qualcosa che invece si trascina nel tempo. Ecco, voglio adottare questo termine. Ecco, qui abbiamo un uomo nato, diciamo, nel 1947, che ricorda insegnamenti e valori, lo vecchio, antico, ecco, di tantissimi anni fa. Io ti ringrazio, Bruno, per essere stato... Io ringrazio te, sono stato felicissimo, veramente. Per essere stato... Solo un ultimo accenno, volevo parlare dell'editore Graus. Sì, sì. Ero Graus, che è una persona molto disponibile, veramente. Lui mi ha dato la facoltà di pubblicare questo libro, anche questo libro di poesia, e quindi io lo ringrazio pubblicamente. Bruno, io ringrazio te, ringraziamo l'editore, vi ricordo l'altro libro di poesie, a Cristina, di Bruno Iaccarino. Io voglio concludere con le ultime righe della tua prefazione, che secondo me sono straordinarie. Insieme a miei genitori ho saputo plasmare in me importanti e sacri valori umani e spirituali, che mi hanno fatto diventare, pian piano, prima un vero uomo, poi un buon cristiano. Grazie per l'attenzione. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Al Libro Aperto. Grazie. Grazie. Grazie.